Pins review In questi pins vediamo Donald Duck, che pretende essere una statua, per evitare dal Yeti. È un pin-on-pin, potete vedere il pin 3D. Il pin è parte del GOLD CARDE LIMITER EDITION SPECIAL GOLD BAKER CARDE Vediamo la parte del pin Vedete che è una LIMITER EDITION 1500 Pin numero 2 out of 5, la collezione è 5 total pin Released in 2008 Vediamo il pin da un angolo differente Grazie a tutti per aver guardato il pin 3D.